oggi c'è un concetto abbastanza importante che volevo condividere e che anche se abbastanza ovvio abbastanza semplici spesso sono quelle le cose anche più importanti per noi ok questo concetto in tibetano viene chiamato de chung chokshe de chung chokshe de chung vuol dire poco desiderio piccolo desiderio de chung piccolo quindi piccolo desiderio de chung chokshe vuol dire soddisfazione quindi de chung chokshe vuol dire aver pochi desideri ed essere soddisfatti è una delle grandi qualità importanti da sviluppare che cosa è questo e perché prima di tutto se noi osserviamo dall'altra parte la nostra sofferenza avviene in gran parte non perché non possiamo avere quello che noi vogliamo ma perché noi vogliamo quello che non possiamo avere o quello che non abbiamo e molto spesso se noi vediamo avviene questa attitudine di sofferenza perché semplicemente le cose non sono come secondo me dovrebbero essere o perché non ho tutto quello che dovrei avere ma su tantissimi livelli questo avviene no a partire dalle cose più semplici che sia il cibo che andiamo a mangiare ad arrivare fino alla le persone con cui ci relazioniamo e ogni oltre e qualunque altra cosa per dire quando noi cominciamo a relazionarci con qualcosa quello che accade è che di solito ci sono due momenti c'è un primo momento nel quale uno entra in contatto e diciamo a poche pretese il primo contatto però in realtà ha da qualche parte un'immagine idealizzata di quello che vorrebbe quindi io conosco la persona c'ho la persona ok nel primo momento che è quello quello che c'è va bene però in realtà io ho già e vado gradualmente a costruire ancora di più un'immagine idealizzata di quello che secondo me potrebbe o dovrebbe essere e più forte è l'immagine idealizzata di quello che dovrebbe o di quello che potrebbe essere più forte è il paragone con qualcos'altro più forte è questa immagine più forte diventa poi dopo il desiderio che sia diverso di ciò che è e di conseguenza l'insoddisfazione risultato? sofferenza questo è quello che succede spesso è chiaro che è importante per noi poter vedere dove si può migliorare dove si può crescere ci sono diverse cose dove possiamo osservare questo però nella maggioranza dei casi sono delle cose che non è che fanno così tanta differenza che sia in un modo che sia in un altro in fondo in fondo e rimaniamo molto spesso attrappati così c'è in italiano no trapped intrappolati eccoci rimaniamo intrappolati in nei nostri propri desideri sulla base di quello che noi non abbiamo e uno dei problemi più grossi che l'insoddisfazione ci porta è che l'insoddisfazione è l'unione tra il desiderio no la nostra incapacità di riguire di quello che noi abbiamo dove uno rimane semplicemente attaccato intrappolato in un qualcosa che uno non ha invece di saper vedere quello che uno possiede no perciò una cosa è aver tanti desideri ossia io voglio tante cose mi piacerebbe avere tante cose mi piacerebbe che le cose fossero in un altro modo ho diversi desideri quando il desiderio diventa insoddisfazione è il momento nel quale non solo rimane il desiderio su qualcosa che non ho ma quello ci toglie la possibile la nostra capacità di vedere e riconoscere quello che abbiamo e anche quando lo vediamo non vale se riusciamo da certi punti addirittura a dire sì è vero che ho questo quindi concettualmente so dare il suo valore però perché non ho quell'altro questo non vale perché non è così è vero che io ho che bello che ho cibo da mangiare però non è quella cosa lì che mi sarei aspettato questo quell'altro quindi che cosa succede quando io creo un'aspettativa quando io proietto un'immagine idealizzata su qualcosa e quello non corrisponde non solo non riusciamo a vedere il valore di quelli che ha in quell'oggetto in quella situazione in quella persona eccetera eccetera ma rimaniamo sempre a guardare qualcosa che ha potrebbe essere diverso e alla fine soffriamo e la cosa anche assurda in mezzo a tutto questo è che l'insoddisfazione ci porta anche una sensazione di vittima non ho quello che dovrei avere è colpa di qualcun altro e quello non è come secondo me dovrebbe essere è colpa di qualcun altro perché se tutto dipendesse solo da noi avremmo tutto quello che vorremmo il mondo sarebbe perfetto però la realtà è che non è così e quello che accade con questo è che la chiave per una delle principali chiavi per la nostra felicità è la soddisfazione che non riguarda solo le cose materiali riguarda anche le persone riguarda anche i luoghi riguarda diverse cose la soddisfazione non è il risultato dell'ottenere gli oggetti di desiderio perché ottenendo gli oggetti di desiderio di solito quello che avviene è la insoddisfazione non la soddisfazione più riusciamo a ottenere ciò che vogliamo più vogliamo altre cose più quello che abbiamo non ci basta la soddisfazione è uno stato interiore nel quale uno in qualche modo si rilassa nel presente in quello in quello che adesso come le cose sono è uno stato profondo di accettazione anche ma è uno stato di pace la soddisfazione è dove uno sa vedere sa riconoscere le qualità di quello che c'è e se le sa godere uno può anche avere desideri ed essere soddisfatto perché nella soddisfazione vuol dire quello che ho va bene è bello io so riconoscere le qualità di quello che ho e so essere felice con quello che c'è poi ci sarebbero altre cose che se io mi chiedo che mi farebbero piacere sì però sono contento con quello che ho come funziona la mente quando noi andiamo a vedere questa tristezza questa sofferenza che viene dal non avere abbastanza l'insoddisfazione di solito da che cosa nasce l'insoddisfazione da un'immagine idealizzata di come potrebbe essere da dove viene questa immagine idealizzata qual è la base per crearla il paragone andiamo a paragonare con qualcos'altro è pazzesco una persona può essere contentissima di quello che ha quando vedi un altro che c'ha qualcosa che secondo me è meglio di quello che ho finita io posso passare anni contentissimo con quello che ho una volta che sperimento una cosa che secondo me è meglio e tornare lì c'era un amico che sempre scherzava qual è il problema di viaggiare in classe esecutiva in prima classe in aereo il principale problema di viaggiare in prima classe è che poi dopo non vuoi più viaggiare economica perché se è più confortevole di qua di là la nostra mente funziona proprio così però se noi dobbiamo funzionare sulla base del paragone se facessimo il paragonio opposto e guardassimo le cose che noi abbiamo paragonato a quelli che non le hanno in realtà ci sono molti di più quelli che hanno in meno che quello che hanno in più si riaspeva però da qualche parte la nostra mente fa col gioco diciamo ma questo non vale perché comunque guarda che c'è quell'altra cosa lì ma la fregatura è che alla fine dei conti siamo noi a soffrire e quello che noi abbiamo da qualunque punto di vista non è altro che il risultato delle cause e condizioni che noi stessi abbiamo creato e se c'è una cosa che veramente porta più gioia è sapere essere in pace con quello che siamo con quello che abbiamo mantenendo la perspettiva di poter crescere e migliorare non so se è chiara questa cosa io posso avere un obiettivo che voglio raggiungere però nel frattempo mi godo quello che ho non sto lì a lamentarmi che questo non va che quell'altro non va poi c'è un'altra cosa che si aggiunge a questo l'insoddisfazione si unisce alle lamentele no? e lamentarsi non è altro che un'abitudine una brutta abitudine lamentarsi è un'abitudine perché innanzitutto se osserviamo bene più ci lamentiamo più ci lamenteremo punto io mi ricordo una volta stavamo arrivando siamo arrivati in Tibet anno 99 mi sa 2000 qualcosa del genere un po' di anni sono passati eravamo arrivati in Tibet con questo gruppo e di solito succedeva che il gli alberghi si prenotavano gli alberghi era in Tibet e l'albergo in cui andavamo non era mai quello che uno aveva prenotato l'agenzia al momento lì cambiava tutto e non potevi far niente in questo caso siamo arrivati lì di solito ti mettevano un albergo più brutto diciamo pagavi un albergo che valeva 50 ti mettevano un albergo che valeva 30 questa era la normalità e non potevi far nulla su quello quell'anno invece hanno fatto il contrario alassa poi ascigazze no ci erano messe in un albergo che valeva di più pagando quello che avevamo già pagato quindi per le cause e condizioni dell'aumento ci erano messe in un albergo 5 stelle arriviamo lì in questo super albergo che si chiama Yaken Yeti a Lassa arriviamo all'albergo più bello di Lassa e tanti di noi ah che bello no ci è stato qualcuno che ha cominciato a lamentarsi ma no io non so mica venuto in Tibet per stare nel grande lusso ma guarda qui no io no e no no questo non è non è questo è troppo non dovremmo stare qua perché questo costa troppo ma perché per questo che è costato tanto il viaggio perché vedi come c'è nome poi si spiega e comunque non funziona no e lì quella volta è stato molto bello perché è stato così chiaro che era una cosa assurda e c'è stata un'amica l'Anna Maria di Bologna che ha raccontato una barzelletta quella volta e quella barzelletta è rimasta per tutto il viaggio ed ha aiutato molto perché non ha fatto altro che mettere alla luce la assurdità un po' come si fa quando si fanno le caricature che si mette enfasi su un aspetto è stato un po' una caricatura della lamentella ok è che mi ricordo veramente bene la barzelletta comunque la storia è più o meno la seguente che riesce a illustrare bene questo concetto dell'insoddisfazione ok più che altro della lamentella perché oggi non c'è nessuno che ha bisogno dell'inglese giusto understand right ok perciò succede questo la storia conta che una volta arriva Noè deve fare l'arca e mettere tutti gli animali dentro e a un certo punto va lì chiama tutti gli animali ci sono tutti dentro eccetera eccetera manca il rinoceronte e a questo punto va a chiamare il rinoceronte vedi che è lì fuori e non ci ha voglia ad entrare e va a dire ma rinoceronte che cosa succede perché non entri no ma io lo so già perché vedrai se io vengo lì quella quel sentireno lì è troppo stretto poi se io cado e poi questo e poi quell'altro è andato finché è riuscito a convincerlo ha migliorato e poi va bene poi dopo di un po' il rinoceronte chiama Noè ma di Noè dice che succede rinoceronte l'avevo detto qua mi ha messo vicino la mucca la mucca puzza troppo io qua non ci può stare io sono un essere delicato non posso essere stare non posso rimanere vicino alla mucca perché questo perché quell'altro va bene Noè va bene ok cambia di posto il rinoceronte dopo di un poco Noè sì rinoceronte cosa c'è l'avevo detto guarda che io non sto bene mi è venuta la torcicolo mi ha messo vicino alla giraffa ogni volta che le devo parlare devo alzare il colo mi è venuta la torcicolo per questo per quell'altro eccetera eccetera vabbè la storia va avanti con ogni animale quello che succede ogni volta che va su ogni animale alla fine il rinoceronte si dice l'avevo detto lo sapevo già diceva lo sapevo già e vedi che c'è questo che c'è quell'altro eccetera eccetera ok a un certo punto arrivano finito il diluvio universale finisce tutto arriva l'arca tutti gli animali contenti di scendere dall'arca rimane chi rimane nell'arca il rinoceronte no e noi dice viene rinoceronte dobbiamo scendere rinoceronte e no lo sapevo già prima mi avete fatto salire adesso che sto comodo mi volete far scendere e questo non va mica bene e di qua e di là ma perché ma come tutta la storia e a un certo punto su questo succede che no viene deve scendere no 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 non voleva lo sapevo già e di qua di là e a un certo punto era lì vicino per poter scendere e viene una mosca e poi passa una mosca e la mosca scende nel sedere del rinoceronte no sedere dietro avete visto lo sapevo già avete già cominciato a spingere ok quindi questo poi in quel viaggio quella storia delle rinoceronte è rimasta e abbiamo detto dopo perché quando hanno cominciato a lamentarsi che l'albergo era troppo bello qualcuno ha raccontato questa saccarana maria che ha raccontato questa barzoletta e abbiamo detto chi è che vincerà il premio del rinoceronte d'oro alla fine del viaggio no e quello ha fatto in modo che nessuno si lamentava più perché nessuno voleva essere rinoceronte no che nulla contro l'animale rinoceronte è un animale bellissimo ok quindi quello che succede è che l'importanza che abbiamo di a capire innanzitutto che lamentarsi è un'abitudine più uno si lamenta più si lamenterà e che cosa porta a lamentarsi l'insoddisfazione l'insoddisfazione cosa porta la sofferenza porta a non riuscire a vedere la bellezza nelle cose porta a non riuscire a godersi le cose che uno ha questo è importante ok vado un attimino all'inglese perché non ci siamo solo noi qui anche con lo streaming ci sono altre persone poi concludiamo un'altra parte importante sull'insoddisfazione un'altra storia una volta tornato in monastero porto mio maestro un paio di due paio di calze il regalo a questi due paio di calze a Genlacpala belle calze di cotone lunghe bordeaux lui riceve le calze e lui mi chiede e io adesso che ne faccio di questo ho detto Genlacpala osservo c'è una relazione fra scarpe piedi e calze riesce a vedere e lui mi dice sì però io ho già due paio di calze che ne faccio con altre io ho cercato di convincerlo dicendo che le calze che lui aveva erano vecchie e che l'elastico non funzionava più che era vero lui metteva l'elastico per la carta quello spesso per tenere le calze su ha detto le calze che tu hai non sono di cotone sono sintetiche queste sono di cotone così è meglio per il piede ho cercato di convincerli con tutte le qualità delle calze che gli avevo comprato e lui alla fine mi ha detto va bene grazie non sono passati due giorni avevo già altri monaci con le calze che avevo regalato a lui un'altra volta invece stavo ristrutturando la casa di rinpoce dove vivevo che ero arrivato lì era una casa carina tutto però c'erano alcune cose che nella nostra cultura almeno da dove venivo io veramente non combaciava che era principalmente i bagni i bagni erano messi non male di più uno del primo problema che c'era è che quando si faceva la doccia c'era lo scarico dell'acqua era un piccolo tubicino che si intasava ogni due per tre quindi si riempiva tutto di acqua sporca della doccia del bagno lì e l'acqua scendeva piano piano e cadeva era nient'altro che un tubo che usciva direttamente dal bagno e cadeva fuori cadeva nel cortile dove i monaci sedevano per mangiare quindi questo cosa voleva dire non usare il bagno per farsi la doccia che non c'era la doccia era con il come si c'era un secchio con l'acqua che si metteva l'acqua calda e uno con una tazza si faceva la doccia così però uno non poteva lavarsi in un orario vicino a quando c'era qualcuno che usava che al mattino a pranzo che era alle 11 si mangiavano lì alle 5 mangiavano lì e alla sera sedevano lì per fare la puggia quindi il dibattito era un problema quindi ho cominciato ho detto ok mettiamo a posto facciamo la doccia bene mettiamo una doccia mettiamo a posto il tubo dell'acqua e ho cominciato ok però visto che ho fatto questo perché non facciamo quell'altro visto che ho fatto quell'altro perché non facciamo quell'altro ho cominciato a mettere a posto poi da lì siamo arrivati in cucina che anche lì c'erano delle cose che giustamente secondo me andavano messe a posto però tante altre che ho cominciato a fare che non è che erano veramente necessarie no? alcune altre a un certo punto mentre facevo tutte queste cose il maestro viene e mi dice guarda io ti aiuto per tutto quello che tu vuoi qualunque cosa che tu ritieni che sia necessario fare io ti aiuto a farle però ricordati una cosa se tu hai bisogno di qualcosa io ti aiuto però ricordati una cosa il desiderio non ha fine più tu vuoi più vuoi più riesci ad avere più vuoi io lì e lui ha detto guarda che eri felice anche quando non c'era tutto questo lì ha detto è vero faccio un esempio di una cosa che volevo fare che poi non l'ho mai fatto ho detto voglio cambiare le finestre perché c'era il soggiorno dove stavamo che era una sorta di grande corridoio soggiorno dove si collegava con le altre camere ma era dove si mangiava tutto c'era delle finestre intorno dove arrivava la luce dall'alto che ogni volta che pioveva forte entrava un sacco d'acqua e ho cercato di sistemare non riuscivo e ricordiamoci che in India c'erano le monzoni quindi le piogge forti erano mesi con piogge forti non è che succedeva e sono andato da lui e ho detto voglio mettere a posto le finestre lui ha detto perché ha detto perché quando piove forte entra l'acqua quante volte succede l'anno non so una decina qualcosa di più ha detto è vero e di solito quando piove forte entra l'acqua cosa fai? ha detto mettiamo le pentole sotto è così difficile? ha detto no crea qualche altro problema? no e perché vuoi cambiare le finestre? ha detto va bene niente finestre ha detto un altro giorno dico voglio cambiare il tavolo il tavolo dove ci sedevamo per mangiare era un tavolo che era un tavolo per otto dove si potevano sedere non più di quattro perché avevano era così le gambe erano così messe male che se non era appoggiato su due muri non stava in piedi su uno non bastava deve essere su due no? io a questo punto vado da lui e dico cambiamo il tavolo perché? perché? perché non sta bene questo tavolo non è più non si riesce non capisco quando mangia è stabile ho detto sì perché è appoggiato sui muri e qual è il problema? ho detto che non si può mangiare in più di quattro persone perché deve essere sempre quanto spesso mangiamo in più di quattro ho detto ma succederà quella anche lì una decina di volte all'anno mi ricordo non so quante volte era ma più o meno quello di solito come facciamo andiamo in camera tua che lui c'era una camera molto grande dove c'era un austride tibetano i letti affiancati e davanti al letto il tavolo quei tavolini tipo questi che sono qua in gompa dove uno sedeva per mangiare lì in camera che è lo classico tibetano e lui ha detto ci sediamo lì no? ha detto sì e stiamo bene quando ci sediamo lì come è sconfortevole ha detto no è molto carino effettivamente quando ci mettiamo lì stiamo sempre bene visto perché dobbiamo cambiare il tavolo la cosa che ho imparato con lui è questa più ne ho più ne voglio e poi alla fine io ho osservato quella volta quando lui ha detto stai attento se tu veramente credi che sia necessario ti aiuto però ricorda che il desiderio non è una fine io ho visto che in realtà ero più felice quando avevo meno che quando avevo di più ero più felice quando non volevo di più che quando ho cominciato avere di più e volevo ancora di più non so se è chiaro questo quando noi non abbiamo e quindi non vogliamo siamo più contenti che quando abbiamo e vogliamo di più è chiaro questo o no e lì io per esempio sulla casa quello che ho fatto è ci sono dei punti che in cucina l'armadio delle cose che non ho finito appositamente quando lui mi ha detto questo ho detto hai ragione ho smesso di fare i lavori e alcune cose ho lasciato lì per ricordarmi che tanto non finisci mai e quello è rimasto lì e poi dopo c'era comunque il fatto che la storia delle calze perché così una cosa che lui mi ha segnato era noi abbiamo una nostra debolezza se noi diamo spazio alla nostra debolezza quella ci soprafa quindi che cosa succede la sua domanda era quante calze mi servono effettivamente quanti paesi di calze servono io sono la peggior persona per parlare di questo che c'è una collezione di calze però sempre che mi servono non le trovo mai però c'è una quantità enorme di calze però effettivamente come diceva lui vivevi in un paese caldo diverso di qui però non è che va a giustificare più di tanto questo quante calze servivano nel suo caso quante calze ci servono effettivamente diciamo che qua ci servono quattro paie due per l'estate due per l'inverno usi uno lavi l'altro si usa uno lava l'altro lì faceva tanto sole non era un problema a fargli asciugare lui diceva io ho due paie di calze uso uno lavo l'altro che problema c'è dove era il pericolo della terzo paio di calze perché il terzo paio di calze è veramente pericoloso perché perché quando uno comincia a abituarsi che c'è un terzo paio sarebbe comodo avere anche un quarto e da questo porta che sarebbe comodo avere il quinto quando uno va oltre la soglia di quello che ho bisogno e cominci ad entrare nella soglia del superfluo lì non hai mai più fine e vai avanti fra un po' hai 50 calze e non è mai abbastanza fra un po' cominci che li vuoi lavare una volta al mese quindi hai bisogno di 30 paie di calze e poi fra un po' non va più bene questo poi fra un po' c'è quell'altra cosa poi è questo poi è quell'altro poi a quel punto c'è la calza più lunga c'è la calza meno lunga c'è quella che il colore è più chiaro quella che è il colore più scuro quella che è così quella che è cosa e uno non finisce più ed uno era più felice quando aveva due paie di calze perché uno dei punti è quanto spazio poi dopo queste cose vanno a consumare dentro di noi parlando sempre con lui lui mi ha detto che il periodo più felice che lui ha avuto in monastero in India dopo quando ha lasciato il Tibet quindi dal 59 fino al 2000 per dire qualcosa di più sono stati i primi dieci anni al sud dell'India quando lui i primi dieci anni in India quando erano poveri a dir poco lui ha detto prima di cosa non avevamo niente e quindi dormire voleva dire sdraiarsi per terra e sciogliere la cintura non c'era letto non c'erano lenzuole non c'erano coperte quasi 80% del monace avevano la TBC mangiare non c'era praticamente niente si condivideva quel poco che c'era per anni hanno mangiato il pane vecchio di sei mesi oltre sei mesi duro pieno di muffa hanno mangiato questo per anni parliamo di quasi vent'anni hanno mangiato così e lui diceva in quel periodo lì non avevamo nulla e quindi non c'era il mio e il tuo era tutto di tutti e passavamo il nostro tempo fra le meditazioni lo studio della filosofia la nostra pratica spirituale e basta e poi si chiedeva della situazione politica del Tibet niente di più non appena non abbiamo cominciato a avere questo è mio questo è tuo non appena abbiamo cominciato a avere più cose materialmente è cominciato a creare quella situazione questo è mio quello è tuo voglio di più non è abbastanza di qua e di là quello ha preso parte della nostra vita enorme abbiamo sofferto molto di più quando guardo oggi eravamo molto più contenti prima che oggi ma quello che porta la felicità in questo caso non è l'aspetto di quanto cose materiali uno ha è quanto uno è soddisfatto è quanto uno si gode di quello che ha perché quando uno vuole di più e vuole di più e vuole di più poi non basta mai veramente non basta mai perciò certe volte darci qualcosa di bello non è un regalo perché poi dopo creiamo un paragone e non siamo più contenti con quello con quello che abbiamo però dipende da una nostra attitudine e una delle grandi qualità che possiamo sviluppare è quella della soddisfazione perciò smettere di lamentarci ricordandoci che è un'abitudine quindi basta non lamentarsi più che gradualmente l'abitudine cambia e rigioire di quello che abbiamo godere quello che abbiamo questa è una delle grandi qualità che possiamo sviluppare veramente molto molto importante poi si può migliorare si può crescere si può sviluppare però la cosa che noi vogliamo è la statua interiore di gioia l'unica ragione per la quale noi vogliamo qualcosa di materiale qual è? per sentir soddisfazione quando noi vogliamo qualcosa in realtà io non voglio il bicchiere io cosa voglio la sensazione di soddisfazione di piacere quando riesco a ottenerlo molto spesso la sensazione di piacere e soddisfazione si ottiene non ottenendo cose ma stando soddisfatti con quello che abbiamo questo è una verità è una verità un po' dura da accettare ogni tanto però è una cosa che se noi osserviamo bene vedremo che è proprio così per questo il fatto di gioire di quello che abbiamo essere più lamentarsi meno e rigioire di quello che abbiamo e ricordarci che il desiderio non ha fine più ne ho più ne voglio più ne voglio meno questa è la regola come funziona ok quindi una delle qualità importanti che negli insegnamenti viene detta da sviluppare è pochi desideri voler poche cose ed essere soddisfatti con quello che uno ha questa è una grande qualità da sviluppare ok comunque negli insegnamenti dice che c'è una cosa sulla quale non dobbiamo essere facilmente soddisfatti sono le nostre qualità le nostre azioni virtuose la nostra pratica del dharma sempre voler fare di più questo è importante però rigioire di quello che facciamo e di quello che abbiamo ok quindi solo questo per concludere la soddisfazione e pochi avere pochi desideri ed essere soddisfatti è una delle principali chiavi per la nostra propria felicità ed è qualcosa che va coltivato ok quindi non facciamo il rinoceronte ok che c'è una cosa che c'è una cosa all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio riuscitele buona giornata a tutti di buono auspicio di buono auspicio di buono auspicio di buono auspicio